Buon pomeriggio a tutti, potrei fare finta di nulla come fanno tanti opinionisti e giornalisti oppure potrei continuare in questa battaglia di verità e alla ricerca quotidiana della verità. Stavo guardando questa notizia, è comparso un po' su tutti i media più importanti, The Ansa, Fanpage, me l'hanno condivisa, come sempre sto facendo le verifiche opportune e ho trovato tanti riscontri. Ennesimo malore improvviso, questa volta per una ragazzina giovanissima, soli 12 anni, è successo a Castelcovati nel Bresciano, una ragazzina di soli 12 anni che ha avuto un malore grave in palestra durante gli allenamenti di pallavolo. Vado direttamente all'articolo su BresciaOggi.it, vi ho messo il link, comunque l'ho trovata anche su Fanpage, l'ho trovata su Ansa.it, su diversi media. Malore in palestra, molto grave una ragazzina Bresciana di 12 anni, si è accasciata sul parquet, l'allenatrice l'ha rianimato utilizzando il defibrillatore in dotazione alla struttura sportiva. Quindi vuol dire che un malore cardiaco, un problema cardiaco, ha dovuto fare una defibrillazione per recuperare e salvare la ragazzina. Andiamo a capire di più. Pallavolo femminile. Una ragazzina di 12 anni è ricoverata in ospedale al civile di Brescia in gravi condizioni dopo essere stata vittima di un malore in palestra. Quindi prima di continuare a leggere, continua questa serie di malori improvvisi. Una serie che non ha nulla di normale. Possono raccontarcela come vogliono, possono tenere nascoste le cose, non dire nulla. Ma io trovo che non ci sia nulla di normale in quello che stiamo vedendo quotidianamente, quasi purtroppo quotidianamente. una serie di malori che sta colpendo dei giovanissimi, anche in questo caso a soli 12 anni. Una ragazzina. Stava giocando a pallavolo. Leggo le parole scritte sull'articolo ben fatto di BresciaOggi.it. Stava giocando a pallavolo. Tutto è accaduto nel pomeriggio di martedì 27 settembre a Castelcovati. Quindi parliamo di ieri, nella notizia di ieri. La ragazzina stava iniziando il riscaldamento prima dell'allenamento con la squadra di pallavolo del paese, quando si è improvvisamente accasciata sul parquet. Di fatto si è trattato di un arresto cardiaco. Quindi è ufficiale, è un arresto cardiaco in una ragazzina di 12 anni sportiva. Rianimata per fortuna dall'allenatrice. L'allenatrice non si è fatta prendere dal panico e ha avviato le manovre di rianimazione, utilizzando anche il defibrillatore presente nella struttura sportiva. Il cuore della ragazzina ha ripreso a battere, fortunatamente. In pochi minuti è arrivata un'ambulanza. Il personale sanitario ha stabilizzato la giovanissima paziente e l'ha trasportata d'urgenza in ospedale. Il tiribile precedente di Verola Vecchia. A inizio settembre, neanche tre settimane fa Verola Vecchia, un quattordicenne, era morto cinque giorni dopo aver accusato un arresto cardiaco, all'inizio dell'allenamento di calcio. Quell'esito tragico aveva lasciato sconvolta l'intera comunità. Nel caso del giovane pallavolista di Castelcovati, le speranze di ripresa integrale sono assolutamente intatte e aggiungerei per fortuna. Però è possibile, vi sembra possibile che quotidianamente, quasi quotidianamente, dei ragazzini giovani, 10, 12, 9 anni, 14 anni, 15, 18, 20, 25, tutti giovanissimi, abbiano così improvvisamente dei malori, ovvero degli arresti cardiaci. Per quale motivo? Il dubbio è lecito, avrà influito quello che state immaginando anche voi? Ormai purtroppo la cosa è certa. Non si tratta più di un dubbio, ma si tratta paradossalmente di una certezza, ovvero che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Perché tutti i giorni, tutti i giorni, ragazzini o hanno dei malori e vengono ripresi per i capelli, oppure purtroppo muoiono per malori improvvisi, arresti cardiaci. E non solo, ragazzini, è chiaro che io nelle notizie mi limito, più possibile, a evidenziare notizie di persone giovani o medio giovani, per un motivo, perché tutti i giorni, tutti i santi giorni, ci sono malori su malori improvvisi. Gente che cammina e cade per terra e muore. Gente che fa la spesa, cade e muore. Gente in macchina che perdi sensi, muore e si scontra a fare gli incidenti. Gente in acqua, quest'estate ne abbiamo visti migliaia, in acqua che di colpo arresta il cardiaco e muoiono. È piena, piena. La situazione è veramente tragica. Purtroppo, purtroppo, i media nazionali stanno facendo finta di nulla. Evidentemente qualcuno dice a loro di non divulgare queste notizie. Una cosa che io ho preso come battaglia ormai personale è che continuerò a fare, perché è giusto dare informazioni di quello che succede intorno a noi. Mi piacerebbe dare belle notizie, il problema è che nella situazione attuale, nel paese, nell'Italia attuale e in questo periodo storico, trovare bene notizie è veramente una cosa difficile, se non impossibile. Saluto Paolo Parisi che dice che non sei normale. Secondo me Paolo Parisi non è normale la situazione e soprattutto la gente come te che fa finta di nulla, non vuole accettare quello che sta succedendo e fa finta di nulla. Un saluto a Paolo Parisi. Pensa Paolo, pensa chi è quello non normale. Ciao a tutti.